Allora, bambini, abbiamo preso un'ascia e abbiamo buttato giù la porta e ci siamo trovati fiamme alte 10 metri. Una volta ho curato un alligatore di 2 metri. Io sono un'impiegata del Ministero e mi occupo di buste paga. Grazie. Qual è il nostro obiettivo principale? Proteggere i cittadini senza che se ne accorgano. Stai mettendo a ripentaglio 20 anni di carriera per vendicare i tuoi ex compagni di scuola? Allergie? Sono allergica ai gamberetti, proprio mi sento morire, tu dammi un gamberetto e io schiatto. Sono gonfia, ho la bocca gonfia, la lingua gonfia, la bolla gonfia, sono tutta gonfia. Perché tuo papà vi siete lasciati? Perché mamma e papà fanno tutti e due dei lavori troppo impegnativi. Lui sì, ma tu calcoli la tratenuta d'acconto. Si dice ritenuta d'acconto. Mi scusi, è un po' raffreddato. Dai cimurro c'ha sto ragazzino. Ciao a tutti. Sapete quali grandi nomi, quali grandi maestri del cinema italiano non hanno mai ricevuto un Oscar? Mario Monicelli, per esempio, nonostante sei candidature. Mentre Sergio Leone e Dino Risi non hanno mai ricevuto nemmeno una nomination. Ebbene sì. Ragazzi, ci trovate anche su TikTok. Trovate il link nell'info box. Iscrivetevi, cliccando sempre qui sotto, per rimanere sempre informati e aggiornati. Ciao, al prossimo video.